Applausi a scena aperta presso il Palazzo Reale di Napoli per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Anna Bardino di Barano d'Ischia, diretto dalla dottoressa Valeria Scotto di Fasano, che con una propria rappresentazione teatrale hanno partecipato al Campania Young Festival, costola del Campania Teatro Festival. Il documentario, dal titolo La Replica, il cui lavoro di coordinatore artistico è stato diretto dal noto regista, maestro di recitazione e attore isolano Giuseppe Agono, ha spaziato dalla commemorazione della Shoah fino alla situazione attuale del conflitto israelo-palestinese. Toccanti sono state le scene relative alla feroce repressione subita dagli Eplei nel secolo scorso da parte dei nazisti.